Ehi Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Wow. Ma che cosa è stato? Ok, lo senti anche tu, vero? Non muoverti. Cosa? Dietro di te. No! No! Via! Che cazzo hai fatto? This is for the players. Ciao! 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 Ciao!